come avete visto non ho messo diciamo felp t-shirt perché sono quelle robe secondo me le t-shirt così le maglie che vanno molto di più di stagione in stagione ad essere ad essere eliminati quindi passerò al punto gonna pantaloni e quindi ai pezzi sotto allora per quanto mi riguarda salterò il punto pantalone ma lo lascerò nella lista di chi poi verrà taggato appunto da me e quindi magari vorrà inserirlo perché io purtroppo non sono una tipa da pantalone o meglio vi farei vedere degli skinny jeans perché alla fine gli unici pantaloni che io uso sono appunto i jeans o comunque i pantaloni taglio jeans in tutte le loro salse e versioni di colore neri bluenotte stinti tagliati non tagliati però sempre quelli sempre classici cinque tasche skinny o i boyfriend jeans non utilizzo pantaloni non sono abituata a meno che non siano i pantaloni quelli diciamo pantalonacci da mettere con la scarpa da ginnastica tipo stile pantalone militare però insomma quelli proprio nel tempo libero non sono certamente dei pezzi conici del mio guardaroba per cui salterò a pie pari la dicitura pantaloni mentre mi concentrerò sulle gonne che sono senz'altro uno dei pezzi che io adoro di più tra le cose d'abbigliamento insieme ai vestiti per quanto riguarda le gonne anche qui c'è un po di tutto ovviamente ci sono tante cose low cost e tra le cose low cost ci sono queste gonne a palloncino o comunque che hanno questa questo tipo di taglio eccola qua vedete che con che compro sempre o da zara o da bershka o da stradivarius insomma nel gruppo inditex è questa di questo bel verde che utile che ho comprato tanti anni fa e continuo ad utilizzare con molto piacere e mi piacciono di questi tessuti un po sostenuti che quindi rimangano un po rigide nella loro nella loro forma a palloncino e ce l'ho così poi ce l'ho anche gialla e l'ho comprata l'anno scorso e appena l'ho rivista quest'anno ero sempre più contenta di rivederla perché la adoro eccola qui gialla poi ce l'ho anche in una sorta di dove l'ho messa l'ho messa l'ho vista prima eccola qua dunque la levo dalla gruccia ce l'ho in questa specie di tessuto pizzo cioè sotto è nera e sopra è rivestita di pizzo ma è sempre lo stesso modello che zara ripropone tutti gli anni ce l'ho anche tutta quanta completamente a fiori ma ce l'ho ancora tra le cose estive quindi non l'ho ancora diciamo tirata giù non ve la posso far vedere ma il modello è quello questo per me è un pezzo iconico tutti gli anni ne compro qualche d'una ne aggiungo qualcuna di diverso colore ripeto ce l'ho anche rossa con i fiori e di altri colori pastello poi un altro tipo di gonna che mi piace tanto sono le gonne così svolazzanti da mettere appunto con i tacchi piuttosto che con le ballerine e quindi quando mi voglio vestire un po' da signora per bene appunto queste gonne nello specifico sono di yumi yumi è un marchio inglese che anni fa compravo tantissimo non vi ho fatto vedere i vestitini di yumi perché ripeto ho deciso di riservare la sezione vestiti al mio dolce gabbana ma ne ho tanti i vestitini di yumi in questo diciamo stile molto bonton ma anche un po' kawaii japan questi vestitini molto leziosi pieni di fiocchi e di pizzi e vi faccio vedere le gonne le gonne di yumi è un marchio comunque medio costoso tipo che magari una gonna si aggira intorno a un centinaio di euro una delle mie preferite è appunto questa qua che arriva più o meno al ginocchio comunque un po' sopra il ginocchio tutta quanta di pizzo ricoperta di questo pizzo ma sotto è nera è sempre di yumi ho anche quest'altra qua che invece è tutta di questo pizzo panna e sotto è anche sa color panna come vedete sempre molto molto danzante molto molto carina il marchio è questo qui yumi erano sempre cosine vendute nel negozio dove io lavoravo e che ho comprato in abbondanza cioè praticamente lavoravo per pagarmi la roba che compravo sempre lì da nel negozio dove lavoravo un pezzo iconico del mio guardaroba è senz'altro questa gonna che vi avevo già mostrato in passato è che è un regalo appunto di pablo che mi ha regalato tempo fa e che non ho sfruttato tanto perché insomma non è che sia uno di quei capi che usi tutti i giorni è una gonna di ungaro non so se come stilista ungaro sarebbe perché è francese è una gonna in seta di questo con questa fantasia molto particolare questa fascia in vita vedete decorata con la catenella è una gonna al ginocchio mi piace tantissimo è una gonna che di solito metto con una semplicissima maglia nera come vedete ha una sottogonna che la fa rimanere bella in forma larga è un'altra un altro bel pezzo insomma un'altra bella gonna che io possiedo è che è sempre un suo regalo le cose diciamo più costose me le ha me le ha comprate lui perché sono quelle robe lì dove magari nel negozio io sto lì a sbavare dico no ma cosa dici poi alla fine insomma spesso e volentieri lui mi ha detto te la regalo e questa nello specifico è una gonna di miu miu a vita alta ha questa fascia in vita vedete è lavorata così con tipo una fascia di elastico e poi tutta quanta la gonna è fatta così come vedete sotto ha una sottogonna nera ma ha questa specie di pizzo macramè non so come definirlo è appunto è una gonna di miu miu queste diciamo sono le donne che di anno in anno proprio stanno nel mio guardaroba che adoro arriviamo quindi alle borse vi faccio vedere due borse tipicamente primaverili tra quelle che possiedo una è una borsa di miu miu ed è la miu miu bao bag quindi la miu miu con i fiocchi che io ho in questa versione di retina appunto ora dentro ci sono delle cose per tenerla in forma quindi dei tessuti in modo che rimanga in forma c'è la sua tracolla appunto così in pelle color glicine che si può nel caso ovviamente io la attacco sempre mi piacciono le borse con la tracolla attaccata e ai lati come vedete è decorata con i fiocchi da cui il nome appunto di bao bag quindi bov scritto b o v eccola ce l'ha da una parte e dall'altra e ha i profili tutti quanti in pelle color glicine chiarissimo quasi rosa cipria questa è una quindi una delle mie borse preferite da utilizzare in primavera è questa senz'altro invece una borsa molto pratica che utilizzo sempre in primavera che avevo da quando ce l'ho ovviamente che avevo anche in questi giorni è la borsa di donna karan questa qua una shopping bag molto ampia rosa cipria in pelle saffiano è una borsa semplicissima che contiene dentro anche un diciamo sorta di portafoglio ecco qua che volendo si può anche chiudere in questo modo adesso ve lo faccio vedere si possono ripiegare all'interno vedete le ali e tirare su queste cerniere in modo da dare alla borsa questa forma trapezoidale io però di regola la lascio così aperta e come vedete è una shopping bag molto molto grande che però è anche di questo colore abbastanza neutro per cui vedete tipo anche con le righe blu così come ero vestita oggi uno stile marinaro però non ci sta affatto male perché è un rosa veramente molto 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 tenue e quindi questa è senz'altro una delle borse mie preferite che posso mettere tra i miei must have di primavera allora per quanto riguarda le scarpe sono molto volubile negli anni cioè non ci sono delle scarpe iconiche che esistono per me nei secoli dei secoli perché le scarpe a differenza delle borse cambiano tantissimo col cambiare delle mode diventano subito abbastanza obsolete la punta, il tacco, quei dettagli che poi non mi piacciono più però devo dire che una costante e non vi farò vedere niente perché comunque si tratta di pezzi che ci sono da sempre sono le scarpe da ginnastica che soprattutto nella stagione intermedia in cui dismettiamo gli stivali con il pelo gli stivali, le scarpe imbottite molto pesanti ma non possiamo mettere ancora i sandali e magari non andiamo ancora a gambe nude quindi non abbiamo ancora magari i sandaletti da mettere con le gonne eccetera c'è un periodo in cui io praticamente vivo di scarpe da ginnastica e quindi il modello all star tra tutte ovviamente vi ho fatto vedere da poco quelle che ho comprato per esempio di prima donna e ce le ho veramente in tutte le salse ce le ho così bianche, ce le ho dorate dell'anno scorso ce le ho all star, le vere proprio all star ce le ho nere ce le ho superga, sempre così modello tipo all star della superga, bianche, ce le ho della freddy ce le ho della Nike ne ho in tutte le salse per non parlare poi della classica scarpa da ginnastica bianca candida tipo la Nike Air Max le Adidas Superstar le Stan Smith insomma tutta quella congrega di scarpe da ginnastica che ci salvano la vita perché vanno dal jeans agli shorts alla gonna ce li puoi sempre infilare vanno sempre bene al di là quindi di questo evergreen tutto il resto di scarpe, decoltè eccetera variano veramente con le varie stagioni diciamo che come scarpetta bon ton che non sia appunto la scarpa da ginnastica da qualche anno cioè da quando sono uscite queste scarpe le Valentino Rockstad mi ci sono fissata ma ovviamente non ci vado a spendere 600 euro per cui ho preso delle fake che le avevo prese da Aliexpress eccole qua il modello è insomma questo qua ce li ho sia così che beige che le avevo prese da CVG Moda e mi piacciono tantissimo ho messe con tutte le gonne che vi ho fatto vedere piuttosto che con i jeans per cui diciamo vi faccio vedere queste ma un paio di scarpe che tengo sempre lì e tutte le volte le guardo e le riguardo e dico ma quanto siete belle sono un paio di miu miu e queste qua sono anche la mia prima foto credo su Instagram che ho fatto quando avevo aperto il profilo e sono queste scarpe qua che avevamo fatto avevamo fatto nella collezione in cui era stata se non sbaglio testimonial Uma Turman queste scarpe le avevo comprate per andare ad una cerimonia ma io le rimetto spessissimo con i jeans strappati e le t-shirt con le stampe di tutti i tipi anche quelle con le stampe rock e mi piace moltissimo il contrasto ora levo la carta così ve le faccio vedere sono questi meravigliosi sandali color champagne e dorati con tutte queste applicazioni mi ricordo che Uma Turman non aveva questo modello nella pubblicità ma ne aveva uno forse basso la scarpa in questione è questa con tutto questo tripudio di applicazioni e di lato è così con il tacco tutto ricoperto di glitter e invece questa parte è in raso è in tessuto si sono conservate perfette nel tempo devo dire che le ho trattate benissimo le ho usate anche abbastanza ma ripeto non si sono assolutamente rovinate e non c'è estate non c'è primavera in cui io non ricalzi con c'è proprio gioia queste scarpine di cenerentola peraltro la cura che è a Miu Miu nelle scatole è veramente pazzesca perché c'è una dust bag per ogni scarpa io religiosamente le ripongo all'interno mi sono costate tipo un occhio della testa sono diventata un ciclope il giorno in cui le ho comprate una roba tremenda sono uscita dal negozio con il portafogli che sanguinava ma non me ne sono mai pentita perché restano tra le scarpe più belle che io possieda anche se non le uniche diciamo di questa fattura perché ne ho altre ma ripeto queste le adoro particolarmente per quanto riguarda gli accessori e nello specifico i bijoux sono piena come tutte voi di tantissime collane e accessori e braccialetti scusate e nello specifico soprattutto le cosiddette necklace statement necklace quindi quelle collane che imitano le grandi collane di diamanti e di pietre preziose ma che in realtà non sono altro che collane belle giganti ma di plastica di pietre di plastica quindi non sto qui a farvele vedere le uso come voi ne uso tante ne ho tantissime spesso avete visto la parete che sta qui alla mia destra stracolma di accessori e quindi le collane la fanno da padrone senz'altro ma tra tutte ho deciso di mostrarvi questa proprio perché l'avevo presa da moschino quando ancora la moda di queste collane non era diciamo sbocciata o era comunque agli albori e mi aveva colpito perché la trovavo particolarmente buffa questa collane ci avevo speso un pochino di soldi la collana in questione è fatta così vedete qua la placchettina con su scritto moschino con questo metallo brunito il particolare è che appunto ha questa sorta di mezzaluna di plastica trasparente dentro il quale è stata inglobata un pezzo di collana di perle vedete che c'è anche il filo della collana di perle come se un blob d'ambra diciamo avesse inglobato la collana di perle mi era sembrata molto particolare molto vistosa e non c'è primavera che io non la rispolveri e non la e non la utilizzi proprio perché non c'è niente come le perle che secondo me faccia veramente primavera altro accessorio must have per me in primavera e anche lì avete credo visto numerose volte la parete che c'è alle mie spalle sono i cerchietti i cerchietti soprattutto quando sono nei toni così pizzosi naturali mi fanno impazzire e infatti ho scelto proprio questo insieme qua di colori proprio perché sono quelli che preferisco ce ne sono di varia fattura per esempio questo che avevo preso da Colors & Beauty che è una fascia dorata di quelle grossissime vedete queste che vanno diciamo così molto stile fasciona gigante di glitter poi quest'altra con quest'altro cerchietto che è un mega fiocco di raso mi piace anche questo tantissimo quest'altro che invece è un tripudio di chiffon vedete con al centro questo bellissimo insieme di pietre tipo Swarovski questo è uno dei miei preferiti quest'altro che è un insieme di petali sempre così molto delicati color crema che è uno dei miei colori preferiti in assoluto quest'altro qui tutto quanto di tulle con le perle centrali appunto come vi ho detto le perle mi fanno veramente tanta primavera quest'altro in raso color cipria con questa bellissima applicazione laterale c'è proprio veramente mi fanno troppo primavera e poi quest'altro che è praticamente sempre così color naturale crema con questa stupenda foglia un po' di gusto retro sul lato ma ve ne ho preso 5 o 6 ma ripeto ho sforato il numero 100 ne ho più di 100 di di cerchietti quindi veramente c'è un tripudio di cose non posso assolutamente star qui a farvi vedere tutti i cerchietti ma è senza dubbio uno degli accessori per me must have di primavera detto questo diciamo che è arrivato il momento del tag e voglio taggare un bel po' di persone quindi sentirete un'infilata gigantesca di nomi di canali che mi stanno molto a cuore di persone che seguo con estremo piacere ed interesse non che tanti di quelli che non citerò io non seguo però non posso diciamo taggare mezzo youtube e io seguo veramente tante persone quindi taggerò Marta Lulaida Cat Marta Mrs. Bamburi Magali del canale Magali Zanardi Linda del canale Nurslinda 87 non me lo ricordo il numero che c'è dopo Nurslinda ma tanto io vi lascio tutti i link dei canali nell'info box Federica di Federica F Federica Piccinini del canale appunto Federica Piccinini e mi fa piacere se al canale al video di Federica si vuole unire anche Michela facendo anche lei nel caso un suo video non so come poi la Michi e la Fede si vorranno organizzare ma ho estremo piacere che anche la Michi partecipi Selvaggia del canale S&S Style and Makeup Ela del canale Ela Fashion e io credo di aver detto tutti wow spero di non essermi dimenticata nessuna delle persone che volevo taggare e spero di avervi tenuto compagnia con questo video e spero anche che tante di voi che mi guardano e che se non sono state taggate e vogliano insomma magari fare anche loro questo video e magari linkarmelo nei commenti mi farebbe davvero molto piacere io me li vado a vedere tutti tutti quelli che mi linkate nei commenti anzi anche se non sono iscritta al vostro canale e girate questo video linkatemelo perché così magari scopro dei nuovi canali e niente ragazze credo di aver detto tutto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao